Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi faccio vedere la mia caduta nel 2009 quando avevo 5 anni è stata registrata nel 25 settembre 2009 avevo solo 5 anni 25 settembre 2009 infatti quindi oggi è 21 settembre 2020 quindi sono passati sono passati quasi 11 anni sono passati quasi 11 anni da quando abbiamo registrato questo video qua e che ero io ero io su una bici con le rotelle ed ero pure caduto dalle bici con le rotelle io ero quello più piccolo avevo 5 anni mentre mio fratello era quello più grande aveva 7 anni e mio fratello quello più grande si vedeva chi sono io mettere poi le scritte di chi sono io qui Francesco a vedere questi video sono veramente belli e divertendo perché ti fanno ricordare com'era tutto prima qua com'era e come si divertì da bambino perché prima non c'erano questi smartphone e questi pc che giocavano binge drive non esisteva proprio giocavamo fuori con le bici con tutto quello che avevamo giocavamo fuori andavamo e tutto questo così qua non ce l'avevo solo una macchina fotografica che era buona per fare le foto ma non era tanto buona per fare i video infatti ora vedrete i video che erano massimo di 480p e massimo 10 fps si 10 fps e 480p si finna registrava ovviamente c'erano anche quelle più di qualità che registravano i 1080p però quelle costavano più di 800 euro quasi 1000 euro costavano e quindi non ce l'ho poto permettere quindi c'era questa fotocamera qua ma questa macchina fotografica costava circa 150 200 euro quanto costava forse ora ve la lascio un attimo vedere canon e guarda questa qua ora la prendiamo e vediamo com'è ecco questa con cui abbiamo registrato certi video nel 2009 l'avevamo comprato nel 2009 ci ho registrato questi video qua in 480p 10 fps e registrava uno massimo di 30 secondi sapete perché massimo 30 secondi per esempio io posso fare video pure oltre le 10 ore però prima questa macchina fotografica si potono fare solo fino a 30 secondi perché perché erano meno di 20 megabyte registrava sotto i 20 megabyte e quindi così era un file leggero io penso che sia per questo i frame rate anche perché non era tanto costoso e quindi frame rate non servivano così tanti perché anche per ridurre la dimensione del file ecco qua vedete c'abbiamo questa canon qua guardate a 400 canon power shot a 400 vedete mica c'è scritto l'anno in quello che c'è scritto perché questo era quello che registravamo ricordate da qua e questo era con quello che registrava ma guardate non lo so se funziona ora forse si con questo registrava i video fino a 30 secondi in 480p e 10 fps andate qua andate dentro aspettate aspettate ok a posto vedete se riesco se riesco guardate qua vedete dove sei dove sei è il retro guardate sembra che sto registrando con la questa fotocamera qua guardate qua guardate qua guardate questo è del 2009 abbiamo detto questa fotocamera forse anche prima 2008 2007 ma penso che sia del 2009 più o meno forse del 2007 non lo so non ve lo so dire ma vedete un attimo l'anno e ve lo dico un attimo ok guardate che tiene pure queste attacche qua queste attacche qua ok sono andato a fare una ricerca e ho visto che questa fotocamera risale al 2005 questa fotocamera questa fotocamera tiene 15 anni e noi ci abbiamo fatto dei video nel 2009 perchè questa ci avevamo e questa ci abbiamo fatto i video vero? si una fotocamera del 2005 ce n'è pure un'altra più vecchia ve la faccio vedere ora e una reflex ovviamente quella non funziona questa potrebbe funzionare però non lo so la conserviamo comunque per ricordo del 2005 fantastica però non lo so abbiamo incominciato a farci video forse nel 2008 2009 però non lo so quando l'hanno comprato se è proprio il 2005 o più o tardi non lo so ok guardate l'abbiamo comprata nel 14 maggio 2005 questa fotocamera vedete vabbè qua ci stanno i numeri di telefono e quindi non posso far vedere però guardate data 14 maggio 2005 mamma mia ok possiamo questa macchina fotografica del 2005 e vi faccio vedere una una che tiene quasi 50 anni c'è questa qua che tiene più o meno 55 anni esatto ora ve lo faccio vedere 55 anni è una reflex no questa è il mio 50 il mio 50 con tre fotocamere questo è veramente moderno del 2019 abbiamo comprato settembre 2019 però quello che vi farò vedere ora vi farà stupire leviamo questo da parte eccolo qua ce l'abbiamo questo qua questo tiene 55 anni questa cosa flexaret 7 scrivetevi trovate tutti i risultati esce 1968 1970 65 quindi tiene più o meno quasi 60 anni questa cosa ma faccio bene e lo tolgo ecco qua ma qua non c'è niente dove ci sono solo pezzi qua non ci sono pezzi a parte guardate ok l'ho trovato guardate qua così è il manuale di istruzioni vedete tutto vecchio c'è scritto in bianco e nero tutto dove stanno le foto così faccio delle foto descrizione dell'archi archi 24 ma mio questo è della 65 68 tutto questo e guardate tutto in bianco e nero ma mio questo è da conservare infatti lo stiamo ancora conservando però guardate ma sono davanti a un non lo so un marchio di fotografi macchine fotografiche c'erano tantissime qua davanti a me ma proprio tantissime volevo far vedere scusate per il casino ma voi faccio vedere queste foto delle macchine fotografiche guardate qua quante ce ne abbiamo allora innanzitutto c'erano questo del 2012 olympus vr 310 del 2012 questa è del 2005 mentre qua c'abbiamo una polaroid vedete dove vi faccio vedere meglio questa qua polaroid questa è del 1990 forse non lo so eccola qua la reflex che vi dicevo io come ho detto del 65 68 questa qua è fantastico guardate qua da conservare da conservare con cura infatti teniamo questa borsa qua da conservarla mettiamo nell'armadio ci stanno pure gli obiettivi questo è il flash che si attaccava vicino vi ricordate i flash che con la lampadina fulminata che si trovano monouso beh questo non è quello è un flash buono che si usa e basta questo è un obiettivo buono pesante vero questo invece è il flash questa è un'altra macchina fotografica yashika si vede che è giapponese, cinese, coreano non lo so guardate quanti pulsanti, quanta regolazione questa è del 70, 80, non lo so più o meno si questa è la reflex come vi dicevo io flexaret flexaret 7 ora la tolgo dalla custodia e vi faccio vedere com'è ecco però ci ho tolto questa cosa guardate questa guardate vedete bene qua c'è lo schermo come si dice lo schermo ora mi devo spegnere la luce per farvi vedere il flash ok guardate questa qua si fa così vedete yashika lens guardate qua va bene questo è come dovrebbe essere guardate e invece questo si mette così piano piano con gomma posizioniamo il telefono qua dentro questo ci voleva tantissimo ma veramente tantissima luce per poter vedersi qualcosa innanzitutto vedete che così non si vede niente solo il riflesso si vede però aspetta vedete niente però se vi metto la luce guardate qua si inizia a vedere qualcosa vero? ecco qua ora si vede la luce si deve un poco regolare tutto perché però vedete questa è la luce si vede guardate qua come fa? non lo so come fa è una cosa fantastica tipo a specchi tipo fa qua e guardate c'è la luce vedete? quindi serviva veramente tantissima luce per esempio ma accendiamo questa qua piano piano ok accendiamo questa qua vi faccio vedere come si vede qua ecco qua vedete? per esempio puntiamo sulla 50 dove è la 50 qua? va bene non si capisce molto però comunque questa è ci vuole veramente tantissima luce quindi mettiamo la luminosità al massimo ecco qua vediamo se si vede la 50 si si vede questo è lo schermo vedete? è lo schermo della 50 si vede veramente male però questo è devo fare un altro video che lo faccio vedere di giorno però se c'è avrò tempo e voglia innanzitutto piano piano mettiamo a posto tutto mettiamo tutto a posto va bene? e vi faccio vedere faccio un altro video che vi faccio vedere come essere tutto a posto con calma e pazienza innanzitutto queste sono macchine fotografiche fantastiche quindi le conserviamo assolutamente le conserviamo questa è in cieco-slovacchia vedete? questa è la reflex mentre questa qua è la polaroid Stati Uniti made in United Kingdom Stati Uniti facevi la foto e da qua usciva stampata vedete? da qua usciva la foto stampata come le polaroid ovviamente così però noi mettiamo tutto a posto vi faccio vedere che non ci sarà tutto questo casino mettiamo a posto con calma e pazienza guardate ho messo tutto a posto va bene? ho messo tutto a posto con calma e cura tutta quella roba che c'era ho messo a posto con calma, cura e pazienza stiamo conservando sempre con cura forse ci dovrò fare qualche altro video più accurato e più precisa con più informazioni riguardo a queste macchine fotografiche che abbiamo però quando ci avrò tempo e pazienza però è stato bello è stato come fare un tuffo nel passato a vedere tutte queste macchine fotografiche vecchie di 30 quasi 60 anni fa va bene quindi ora vi posso lasciare al video dopo questa accademia fotografica iniziamo con il video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti